Ancora online il Tg di Federuna Coma. I dati dell'Associazione dei Costruttori Europei SEMA evidenziano un calo significativo delle vendite di trattori nei primi otto mesi dell'anno. Continua il trend negativo per il mercato italiano che tuttavia potrebbe dare segnali di ripresa a partire dal prossimo anno. Le vendite di trattrici nei principali paesi europei segnano nei primi otto mesi dell'anno un calo del 7,6%. A fine agosto, secondo le stime dell'Associazione Europea dei Costruttori SEMA, che include nelle statistiche anche la Turchia, il numero di macchine immatricolate si è fermato a quota 109.000 rispetto alle 117.000 dello stesso periodo 2014. Tutti i paesi censiti registrano cali significativi. Francia, meno 4,4% in ragione di 19.000 macchine immatricolate nel periodo considerato. Germania, meno 8,7%, 21.200 macchine. Regno Unito, meno 16%, 8.700 macchine. Meno pesante rispetto alla media degli altri paesi, il passivo dell'Italia, che secondo i dati relativi ai primi nove mesi elaborati da Federa una coma sulla base delle immatricolazioni registrate dal Ministero dei Trasporti, segna una flessione del 3%, a fronte di poco più di 14.000 macchine, che tuttavia si somma ai cali registrati sistematicamente nel paese a partire dal 2009 e che hanno portato il numero delle trattrici immatricolate ai minimi storici, 18.178 nel 2014. L'economia italiana ha ripreso lentamente a marciare, commenta il presidente di Federa una coma Massimo Goldoni, e questo può stimolare una maggiore fiducia e una volontà di tornare ad investire per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole. Ma un miglioramento del mercato si potrà solo avere il prossimo anno, anche perché l'annuncio fatto dal governo a fine ottobre circa lo stanziamento per il 2016 di 45 milioni di euro per l'acquisto di macchine agricole potrebbe congelare gli acquisti negli ultimi mesi del 2015. Si è conclusa alla Fiera del Levante la rassegna delle macchine e delle tecnologie per l'agricoltura. Nuovo record di visitatori che raggiungono quota 58.400. L'edizione 2015 di Agri Levante si chiude con un successo pieno e con il nuovo record di visitatori. Tenutasi dal 15 al 18 ottobre scorso alla Fiera del Levante, la rassegna internazionale delle macchine e delle tecnologie per l'agricoltura, l'agroindustria e la cura del verde si è conclusa con un numero complessivo di 58.400 visitatori, il 10% dei quali di provenienza estera, pari a un incremento del 17% rispetto ai 50.000 dell'edizione scorsa del 2013. Un risultato che conferma il trend positivo di questa esposizione, che ha ormai consolidato il proprio ruolo di evento guida del Mediterraneo, punto di riferimento per gli operatori dell'Europa meridionale, dei Balcani, del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Africa subsahariana. Una folla composta da agricoltori, contoterzisti, rivenditori di macchine agricole, ma anche di giovani, famiglie e bambini affascinati dalle poderose macchine in mostra, oltre 300 le aziende espositrici, hanno visitato i padiglioni della fiera partecipando anche ai numerosi incontri, oltre 40, di taglio in parte tecnico, in parte divulgativo, su temi di economia agricola, di finanziamenti per le imprese agricole, di cura del verde, di ecosistema e di energie rinnovabili. Tra gli incontri d'affari, grandi rilievo hanno avuto quelli con gli operatori economici delle delegazioni ufficiali estere, organizzati in collaborazione con l'Agenzia ICE, che hanno visto la partecipazione di oltre 100 operatori e di 160 aziende espositrici. Nei tre giorni di Business to Business si sono contati più di 1700 incontri fra aziende e operatori, svolti in un'apposita area internazionalizzazione allistita all'interno del quartiere fieristico barese. Si è tenuto in ambito Expo l'annuale meeting del Club of Bologna, assise internazionale di esperti ed accademici del comparto della meccanizzazione agricola, che quest'anno è stato dedicato al tema Nutrire il pianeta. Farm machinery to feed the world è stato il titolo dell'incontro 2015 del Club of Bologna, svoltosi in forma pubblica lo scorso 21 settembre presso il Teatro della Terra del Parco della Biodiversità in Expo. Scopo dell'iniziativa era sottolineare e trasmettere a un'ampia platea il ruolo fondamentale della meccanizzazione agricola ai fini del tema qualificante di Expo 2015 Nutrire il pianeta, energia per la vita. Non dimenticando che se nel 2050, secondo le stime FAO, sarà necessario aumentare del 60-70% la produzione alimentare nella salvaguardia delle residue riserve verdi del pianeta, ciò dovrà avvenire principalmente attraverso un generalizzato aumento della resa per ettaro delle superfici attualmente coltivate. In una intensa giornata di lavori, gli esperti del Club of Bologna hanno affrontato le problematiche e le strategie necessarie a garantire la produzione di risorse di cibo sufficiente per una popolazione mondiale in crescita esponenziale, evidenziando come la forte innovazione che ha caratterizzato allo sviluppo della meccanizzazione agricola in questi ultimi anni, la rende elemento determinante per coniugare produzione agricola e sostenibilità ambientale. Qui in Expo abbiamo oggi un'altra giornata molto importante di discussione, di valutazione con una serie di esperti provenienti da tutto il mondo, facenti parte del Club of Bologna, che si sono incontrati qui per discutere sulla sostenibilità, sulla efficacia, sulla sicurezza, della meccanizzazione agricola nell'impiego in agricoltura e per l'ottenimento di energie alternative. È chiaro che in questi contesti ci sono valutazioni che devono tenere conto di tutto quello che è il globo e di quali sono le diverse esigenze a livello mondiale per le caratteristiche dei Paesi e per quelle che sono le esigenze per le coltivazioni. In questa giornata verranno sviluppati i discorsi che riguardano appunto come ottenere meglio un risultato sfruttando le tecnologie e le competenze e mettendoli a disposizione dell'uomo e delle proprie esigenze. Questo appuntamento del Club di Bologna è un appuntamento veramente cruciale. Il Club di Bologna ha da poco compiuto 25 anni, mezzo un quarto di secolo. si è sempre riunito con cadenza annuale per discutere tra detti lavori ma soprattutto in rappresentanza delle teste pensanti mondiali della meccanizzazione agricola i problemi di sviluppo ma quest'anno con l'Expo abbiamo sentito la necessità di dire a alta voce e a tutti che la meccanizzazione è per la sfida mondiale di alimentare il pianeta nei prossimi trent'anni. Quindi in questa occasione ci siamo riuniti e abbiamo cercato di evidenziare da un lato il nuovo ruolo di sostenibilità che la meccanizzazione più moderna e aggiornata e automatizzata è in grado di ottenere e quindi sfatando la leggenda che la meccanizzazione inquina per chiusi motori. La meccanizzazione consente di aumentare le produzioni e consente di ridurre al minimo necessario utilizzato dalla pianta l'utilizzazione dei prodotti chimici e quindi è in favore dell'ambiente. Altre soluzioni che riducono la produttività del terreno sono contro l'ambiente perché se riduciamo la produttività dobbiamo aumentare la superficie coltivata. Ad Expo io sono stato felicissimo di essere stato invitato dai meccanici agrari perché è un genetista che viene qua perché mi ha permesso di studiare un po' approfonditamente il legame che ci può essere tra la meccanica agraria e la genetica e ce n'è tanto. Ce n'è tanta perché il secolo scorso è stato caratterizzato da tre grandi discipline scientifiche la meccanica, la genetica e la chimica. Con queste tre siamo riusciti a raggiungere risultati inaspettati dal punto di vista della produzione agraria tanto che oggi se dovessimo fare un bilancio generale evitando gli sprechi, recuperando tutti, senza aumentare la superficie coltivata noi potremmo dire di disporre di cibo a sufficienza per tutto il pianeta. Purtroppo c'è un miliardo di persone che muore di fame. Noi dobbiamo preoccuparci non solo per loro ma per il fatto che nel 2050 saremo 9,5 miliardi di persone, cioè quasi 2 miliardi e mezzo in più rispetto ad oggi. E dobbiamo mangiare tutti e non dobbiamo aumentare la superficie. E allora nei laboratori abbiamo cominciato sulla base delle esperienze precedenti e su quello che oggi sappiamo attraverso l'analisi dei genomi abbiamo chiesto al DNA di ogni singola specie, senti tu sei capace di darci qualche cosa di più rispetto a prima? E la maggior parte dei genomi per oggi ci hanno detto di sì. Dall'altra siamo andati al terreno pure e gli abbiamo chiesto, senti se noi veniamo con una nuova pianta che non ti dà molto fastidio, tu ce la puoi alimentare? E il terreno ha detto sì ma non mi insultate. Noi non dobbiamo insultare quel metro quadrato di terra né tantomeno pensare che l'Africa o il Sud America sia un'ulteriore fonte di sboscamento selvaggio per produrre cibo come hanno fatto i nostri genitori o i nostri nonni.